Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, ANNMIC, sede di Taranto. Siamo vicini ai disabili per informarli sui loro diritti ed aiutarli nel disbrigo di pratiche riguardanti. Riconoscimento di invalidità civile e domanda per il riconoscimento della legge 104. Assegno mensile. Pensione di inabilità. Indennità di accompagnamento. Indennità di frequenza. Protesi ed ausili. Essenzioni dal ticket. Essenzioni tasse automobilistiche. Benefici economici di invalidità civile. ANNMIC è presente con i suoi medici di categoria nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile presso ASL e INPS. Inclusione scolastica. Problemi legali e sanitari. Informazioni e certificazioni varie. Servizio CAF e patronato. Convenzioni per trasporto disabili. Consulenza per abbattimento barriere architettoniche. E ancora, tutto ciò che può agevolare l'iter burocratico delle varie richieste che provengono dagli invalidi civili e dalle loro famiglie. Ricorda, se vuoi destinare alla sede provinciale dell'ANNMIC di Taranto il 5x1000, scrivi sul CUD o sul modello 730 il codice fiscale della sede. ANNMIC, più diritti, più futuro per gli invalidi civili. Ti aspettiamo a Taranto, in corso Umberto 197H. Telefono 099 452 0819 Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori.